buongiorno buongiorno di buongiorno eccoci qua lo riconoscete lui guardatelo lui è cooper quanti video abbiamo fatto per cooper quanti tanti tanti però sembra che non siano per niente bastati nessuno si innamora di quest'anima nessuno se ne innamora e voi dite si ormai è grande cooper intanto ha circa un anno e mezzo quindi non è grande è un cucciolo è un cucciolo che non ha avuto modo di avere un'infanzia come magari molti cani di casa molti cani che noi siamo abituati ad avere questa infanzia è stata un po tolta però non è giusto che lui debba patire e debba subire questa mancanza anche nell'età adulta non è giusto lui ancora un cucciolo ha ancora voglia di riscattarsi deve riscattarsi questo cane deve riscattarsi perché non ha avuto molta fortuna non ha avuto molta fortuna per aver incontrato una persona un adottante che non è stato all'altezza minimamente di questo cane non l'ha capito non l'ha voluto capire nell abbandonato a se stesso facendolo così regredire ecco io sono qua da due minuti con lui guardate non mi sta per niente guardando e sì che comunque è vero che sarà passato un paio di mesi l'ultima volta che ci siamo visti ma lui giustamente non sta a dire ah se mi ricordo di te vero si nasconde il titolo camilla perché camilla è il suo punto di riferimento guardate quanto è magro non è che non mangia sia chiaro qui i cani stanno bene sono trattati veramente bene però guardate quanto è magro questo è stress è stress questo è stress dovuto al fatto che comunque non ha un punto di riferimento lui ancora adesso sta cercando un punto di riferimento e potreste essere voi potreste essere voi ma perché non vi mettete in gioco con lui perché no è veramente molto bello è molto bello è molto intelligente è solo un po' titubante però ha bisogno veramente di un punto di riferimento perché se no non esce più dal suo impasse ed è ancora molto giovane ha una vita davanti a sé ha una vita io a casa una cagnolina di 14 anni che ho appena adottato e ha ancora voglia di fare certo non tantissimo perché è messa male era una randaggia veramente lei era in giro a mangiare la spazzatura ma ha 14 anni ora cupera un anno e mezzo un anno e mezzo voi capite quanta vita può avere ancora ma perché non gli si può dare un'altra possibilità a questo cane che colpa che male ha fatto credo nessuna credo proprio nessuna guardate guardate come sta godendo delle carezze di camilla guardate 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 tra un po piange guardate come come gli piacciono tantissimo ecco lui io credo che un cane che non ha diciamo avuto le esperienze giuste nella sua infanzia quando troverà la persona che gli dà questa possibilità io credo che si attaccherebbe a lui come come la terza gamba non si staccherebbe mai diventerebbe un cane cozza un cane cozza un cane che non vi lascerebbe mai neanche un momento perché lui è così lui ricambia centomila volte la vostra la vostra diciamo così vostro amore lo ricambierà in centomila modi diversi sempre stando al vostro fianco questo è un tipo di cane che se ci fosse necessità si butterebbe in mezzo al fuoco per voi lui non ci penserebbe ma neanche un secondo perché gli avete dato una possibilità e cani così ce ne sono tanti è vero e tra questi tanti c'è anche lui cooper cooper vieni annusa mio amore chi c'è chi sta abbaiando chi sta abbaiando chi si sta lamentando cooper oh mamma mamma chi è chi è per cui pensate seriamente a cooper pensateci seriamente non deve essere più così con le orecchie all'indietro e con la paura con il terrore guardate come c'è le orecchie sicuramente lui riconosce questo questa voce di un suo compagno e probabilmente lo teme chi è questo rottweiler e cosa sta dicendo cosa sta dicendo sta lamentando ecco per guardate come teso guardatelo guardatelo non è tranquillo non è tranquillo quindi facciamo facciamo così pensateci veramente questo cane venite a trovare a portarvelo in giro a stare con lui a conoscerlo portatevi una brioche ecco venite qua venite dentro con una brioche e dividetela con lui cominciate a conoscere in questo modo bastano pochi gesti veramente per conoscere e capire un cane e far sì che questo cane si cominci a vedervi sotto un altro aspetto a far passare questa sua questo suo timore semplicemente con pochissimo come ha bisogno tanto certo lui ha bisogno tanto 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 ma se si fanno i gesti giusti lentamente le azioni giuste questo è un cane è vero ci metterà un attimino di più ma vi ripeto sono cani che vi darebbero poi la vita in un secondo momento non ci sa non ci penserebbe su un attimo se c'è un incendio lui verrebbe a salvarvi a costo della sua vita questi sono cani così non c'è nessuno che si voglia innamorare di lui ad avere un compagno per la vita un amico ma un amico sto dicendo non conoscente come abbiamo siamo abituati noi ad avere un amico cooper è dovrebbe essere il vostro amico non so più cosa dirvi per poter farvi capire che cosa che cosa di cosa cooper ha bisogno chi potrebbe essere il la persona giusta l'umano di riferimento non so più cosa cosa potervi raccontare di lui ha già subito abbastanza ora possiamo dire la parola stop basta non deve più subire questo cane deve smettere di essere sotto stress in continuazione deve smettere di essere così dategli un po di tranquillità dategliela ne ha bisogno ok salutiamo cooper cosa gli vuoi dire ciao cooper ciao amore ciao cooper ciao 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 ciao